Siamo tornati in un'altra decorazione da brividi Nel precedente video, e se ve lo siete persi, andatelo a recuperare perché penso che sia la migliore decorazione da brividi di Halloween Ma oggi tocca alla Lightning School, che diventerà la Lightning Horror School Molto problematico il nome E quindi siamo nuovamente da Casimira Quindi ci toccherà andare a lavorare E questa volta trasformeremo, come abbiamo fatto con l'ospedale, in horror La scuola Beh dai, bene o male la scuola è già horror Basta vedere quanti compiti vi danno Fatemi sapere sotto nei commenti se effettivamente vi danno tantissimi compiti Però direi che già di base, tra i professori e i compiti, la scuola è già spaventosa Ma noi la renderemo ancora più spaventosa No, ma io... No, raga, ma guardate che zucca a Casimira Ma io la voglio, è bellissima Questo oggetto non si può sbloccare alla zucca Classica di Halloween Ma con le ciglia Che noi non abbiamo Forse si può personalizzare No, mi pare che non ce l'abbiamo, raga Non si può sbloccare Comunque, Casimira Dobbiamo andare a lavorare Parliamo di strutture Cioè da ristrutturare la scuola In realtà comunque possiamo fare anche il ristorante, il negozio Però intanto ristrutturiamo la scuola Bene, siamo tornati nella Lightning School Io non me la ricordavo perché è stata una delle prime strutture che ho fatto su Happy Home Paradise E quindi dobbiamo capire come farla horror Allora, questa era una delle prime decorazioni quindi non avevo delle tecniche avanzate e non possedevo tantissimi oggetti È carina ma dobbiamo cambiare un po' di cose E ovviamente partiamo sempre dalla parete e dal pavimento perché quello fa tanto Prima di tutto andiamo a vedere al buio quanta luce entra Beh, ci sono un bel po' di finestre Voglio creare una piccola stanza Cioè un'aula molto più piccola ecco E quindi fare anche il corridoio che sarà appunto un corridoio spaventoso Penso per la scuola di utilizzare una luce un po' tendente al verde ecco Perché il verde è il colore tetro di Halloween È il colore perfetto Andiamo a vedere un attimo Quindi per quanto riguarda le finestre non ci servono Ecco, oddio, anche il ciano No, però questo verde mi piace sempre di più Possiamo andare anche a diminuire leggermente l'intensità E mettiamo sempre lo scricchio lì perché ci sta tantissimo Allora, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto spostare l'aula in una zona E la sposterei a destra Visto che abbiamo qua tutti gli scaffali Quindi andrei a togliere il proiettore Questa che è la scrivania del professore la mettiamo qua Ovviamente ci sarà sempre un po' il tema di scuola abbandonata Allora, vado a fare un po' di pulizia Levando questi banchi da qui E poi andiamo a utilizzare la parete Intanto questo lo sposto a destra Così vediamo un attimino come sistemare il tutto E mi serve la parete Quindi andiamo a utilizzare questa Solo che ovviamente non mi si vede il corridoio Cioè nel senso Non mi prende la parete del corridoio Ecco, in questo senso Perché c'è l'altro muro Vabbè, il corridoio deve essere piccolo Però qua ci sono le luci Quindi dobbiamo un attimo toglierle Se no non mi entra la parete Quindi andiamo a rimuovere queste tre luci al momento E la parete la mettiamo esattamente qua O qua o qua Quindi qua Comunque la seccatura di questi muri Che non ci puoi mettere niente sopra Ed è davvero un peccato Perché gioco, dico Animal Crossing A volte hai delle meccaniche davvero del cavolo Se tu mi metti una parete aggiuntiva Che io posso pinare alla mia casa Perché non mi fai mettere le cose sopra? Cioè non ha minimamente senso E questa è la parte del corridoio In realtà aveva senso farlo davanti Però non avremmo visto La parete con gli armadietti Perché io posso metterla solo di fronte E comunque da questa parte Non si sarebbe vista Quindi lo lasciamo laterale E l'aula la facciamo adesso Un pochino più grande Allora, vediamo un attimino Come possiamo cambiare la parete Ovviamente questa volta Non vorrei utilizzare il muro di roccato Ma magari un muro così Eh, mi ha cambiato questa Vabbè, non ha importanza Perché, no, aspettate Perché dovevo utilizzare Cioè devo fare così Per tutta la parete E poi da questa parte Utilizzare il muro con gli armadietti Diciamo che ci sta Questo muro un po' così Per cambiare Se no andiamo a utilizzare sempre Cose diroccate E non va bene Non mi dispiace Questo muro Anche perché Di altro Per quanto riguarda Con le finestre Di spaventoso Non c'è nulla Con le finestre Quindi direi che questo Può andare Le luci Le luci io le lascerei Perché comunque è sempre una scuola Ma andrei a mettere nel soffitto Sempre l'edera Cioè questa è una cosa Che noi Non dobbiamo mai togliere L'edera la mettiamo Nel colore Sempre Questa volta verde chiaro Lasciamo un po' il verde Magari la mettiamo anche davanti alle luci Così non si vedono tantissimo Raga L'edera Con il verde Cioè con la luce verde Già Crea un'atmosfera Spaventosissima Però Voglio allargare un po' La stagione Nel senso È troppo a destra Quindi Andiamo a centrare un po' L'aula Allora Intanto questo lo sposto qua Spostiamo anche il bancone E centriamo l'aula In realtà possiamo fare anche una cosa Mettiamo i banchi un po' più avanti In modo da avere più spazio Allora Così non è proprio centrale Perché Vabbè Non è centrale perché abbiamo messo anche la parete Quindi ci sta E andiamo a mettere qualche oggettino un po' più spaventoso Perché così non ci siamo proprio Prima di tutto Butterei sempre roba a terra Possiamo cambiare il pavimento Cerchiamo qualcosa di rovinato Però che non sia la terra Qualche dorato assolutamente no Qualche scuro no Sapete che cosa? Quello che non abbiamo mostrato per l'ospedale Non ci sta benissimo Cioè non si sposa alla perfezione Però secondo me non è nemmeno da buttare Quindi Io me lo tengo Perché Eh no Questo non ci sta Eh non ci stanno Gli altri sono troppo Non sono per Questo Questo col fatto che sia Comunque rovinato Anche perché le scuole Ce l'hanno ancora Sto pavimento Se andate in una scuola Che non è proprio Stata ristrutturata Ecco poi c'è che Trovate davvero questo pavimento Poi comunque il fatto che ci sono Quattro tavoli contati Mi mette ansia Secondo me la sfera È abbastanza spaventosa E possiamo utilizzarla Nella scrivania del professore Quindi andiamo a mettere Questa sedia qua normale Giriamo un attimo La scrivania che è storta E questa la mettiamo qua sopra Cioè se io l'accendo Secondo me Da Beh un'aria Macabra E ne metterei un po' di più Cioè ne metterei anche un po' Da questa parte Tipo Andrei a togliere il ventilatore Questo lo mettiamo Perché si illumina Tolgo anche questa E tolgo il mappo mondo Così ne metto No perché mi copia la scrivania Metto una qua Una qua E una qua Adesso andiamo ai nostri stickers Che non possono mancare Perché anche quelli Un po' come il pane Servono per forza Qua in questa In questa ambientazione Quindi Prendiamo sempre gli stickers Non mettiamo il sangue Questa volta Mettiamo sempre Solo le mani Quindi anche Questi sono le mani Degli alunni Che scappano Per i troppi compi Direi Adesso È il momento Delle ragnatele Perché Come ho detto Nel precedente video Le ragnatele Con Le cose abbandonate E horror Si sposano Perfettamente Quindi dobbiamo riempire Tutte le pareti Di ragnatele Servono Ragazzi Le ragnatele Sono Proprio tutte Ma proprio tutte Pure qua Pure sugli armadietti Li mettiamo Pure sugli armadietti Ok Anche qui Andiamo a posizionare Ragnatele Ok Ho cambiato la schermata Della lavagna Sui tavoli C'è troppo colore Allora Intanto qua Beviamo un pochino Di roba Qua Le miei libri Secchio delle pulizie Non so perché Il secchio delle pulizie In questi ambienti così Mette i brividi Quindi mi piace E lo posiziono Non lo so Mi sa di disordine Mi sa di Mette i brividi Raga Non lo so Quindi lo metto anche Nel corridoio qua Ma Mettere anche Il mucchio di foglie Con il fuoco Mi sa di abbandonato Non lo so Le vedo sempre bene In questi ambienti Così Non lo sai com'è C'è una finestra rotta Entrano E qualcuno Gli da fuoco Anche perché ci sono Le candele accese Comunque In tutto questo Ovviamente Non ci dimentichiamo Le cartacce Raga Sto mettendo Praticamente Al manichino Una maglietta Con il sangue E lo mettiamo Qua dietro E spaventiamo Fa paura Era inquietante Questa cosa Lo mettiamo qua Quando tu Entri Tipo ti vedi Sto bambino Insanguinato Che poi in realtà Forse è stato ucciso Un fantasma Quindi sta infestando La scuola E questa è la nostra scuola Anche perché non posso Mettere più oggetti Di così Perché niente Non sapevo Ci fosse un limite Beh Ovviamente L'ospedale Resta il migliore Perché comunque Gli oggetti che avevamo Erano molti di più Ma anche la scuola Non mi dispiace Ora voglio Vedere la scuola finita Con gli studenti All'interno Perché questa cosa Mi fa proprio morire Da ridere Quindi Casimira Io ho finito L'esterno Non lo cambio Perché tanto abbiamo visto Che cambia ben poco Quindi intanto Ci farà vedere Delle inquadrature Voglio rinominare La scuola No Lasciamo lightning school Però sapete Che si chiama Lightning horror school Anche perché Non credo che C'è troppo lungo il nome Vi ricordo Che potete anche Visitare Le mie creazioni Su Pion paradise Se possete Del dlc Quindi se vi 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 vedi da vicino Beh Visitatele Allora Questa inquadratura Non mi piace Però loro In una scuola Abbandonata E spaventosa Studiano Come se niente fosse Cioè Il professore Che se ne va Nei corridoi Molto normale Questa cosa Va bene Poi ritorna in classe Ovviamente Perché se no Copiano Stanno facendo Il compito In classe Quello che studia Con un teschio Sul banco Come se niente fosse Va bene anche Molto Molto realista Questo gioco Le cose giuste Ed eccoci qua Praticamente C'è un esubrio Di studenti Tanto che Il professore Ha concesso Di sua iniziativa Di far sedere Lo studente Nella cattedra Beh succedeva anche a me Ogni tanto Mi facevano sedere Nella cattedra Perché pensavano Che io copiassi Spoiler Non avevano capito niente Perché io ero Quella che faceva i compiti Ed erano Le mie amiche Quella che copiavano Invece pensavano Sempre che fossi io In realtà no E Quindi più o meno È successa La stessa cosa Chi si è alzato Dal banco Qualcuno Si Raga Ma non c'era qualcuno Nel banco O si è alzato Mentre parlavo Raga è sparito Un fantasma Comunque Sono molto tranquilli Cioè Stanno facendo tranquillamente Lezione In questa aula Io sarei Letteralmente spaventata In ogni caso Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa nuova Scuola horror Solo per il mese Di ottobre Poi La problematica Sarà di farle Tornare normali Però cambieremo Totalmente magari La struttura E Ripeto Iscrivetevi sotto Nei commenti Se vi piace E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti